L'offensiva terrestre israeliana prosegue in queste ore nella striscia di Gaza. Hamas riferisce di combattimenti in corso a Beit Anun. Per il resto, l'avanzata israeliana sembra non incontrare ostacoli. Un portavoce militare ha parlato di 17 terroristi uccisi, mentre altri 13 si sono arresi e vengono interrogati. Lo stesso portavoce ha aggiunto che sono stati distrutti una quindicina di tunnel attraverso i quali i miliziani di Hamas si introducevano in territorio israeliano, ma ce ne sarebbero centinaia. Nel frattempo sono proseguiti anche i bombardamenti che hanno portato il totale dei morti a 274 in mattinata, oltre 2000 i feriti. In giornata, gli abitanti della striscia si sono accorti che l'esercito israeliano si era fermato a un chilometro e mezzo dalla frontiera e allora sono scesi in strada a Beit Lahia, dove si sono svolti i funerali dei tre bambini uccisi alla vigilia, e a Jabalia, dove per un'ora la gente ha sfidato la guerra. Un passaparola ha portato i residenti a scendere in strada e a imporre con la loro presenza una sorta di cessate il fuoco di fatto, ma altre migliaia in quelle strade non ci sono più. Sono fuggiti, cercano un riparo qualunque. Le Nazioni Unite dicono che il numero degli sfollati nelle ultime ore è raddoppiato.